Per le strade di diverse città nigeriane si manifesta il grido di ridateci le nostre ragazze dopo la scomparsa di un gruppo di studentesse da un college assalito martedì da un gruppo di jihadisti di Boko Haram. Secondo fonti governative citate dalla stampa locale, 48 delle 94 ragazze che si temeva rapite sarebbero invece ritornate sane e salve a scuola. L'attacco dell'organizzazione lunedì al college della città di Dapci nel nord del paese mirava con ogni probabilità a rapire in massa le ragazze, sull'esempio di quanto avvenuto nel 2014 a Ciboc quando ad essere rapite furono 270 studentesse. Sono 46 al momento le ragazze ancora disperse ma non è chiaro se siano nelle mani dei rapitori o se invece dopo l'assalto siano riuscite a scappare e nascondersi in un luogo sicuro.